Ben trovati all'appuntamento con il meteo di Telenuova. Queste le previsioni del tempo per venerdì 12 giugno. Al nord il cielo si presenterà velato, a nord-est e coperto da nubi più compatte a nord-ovest. Già dalle prime ore del giorno, nel pomeriggio e nella serata, sono previste precipitazioni diffuse. Al centro nuvolosità abbondante sulla Sardegna con possibilità di rovesci o isolati temporali. Per le regioni centrali peninsulari la giornata inizierà con velatura in area tirrenica e c'è lo sgombro da nubi sulle regioni adriatiche che saranno però raggiunte dalla nuvolosità medio-alta nel corso della giornata. Al sud passaggio di nubi medio-alte alternate a schiarite anche più ampie su tutte le regioni, Sicilia compresa, dove tuttavia la nuvolosità potrà essere a tratte un po' più consistente pur senza dar luogo a piogge. Sulla campagna il cielo sarà sereno poco nuvoloso con tendenza all'aumento della nuvolosità tra il pomeriggio e la sera. Temperature in aumento, venti deboli, mare poco mosso.